e col destro che gollo col destro che gollo buonasera da Tarnem S Cup benvenuti al Tarnem 7 Cup si affrontano questa sera i ragazzi dei falliti contro i Red Devils mi dico Giuliano in maglia rossa alla mia sinistra i Red Devils dopo classifica insieme a Renan Nocelle il KTM alla mia destra i falliti in maglia rosa qualche sprazzo di bianco ecco il solito saluto tra le tre squadre demora se vuoi il tocco per la palla in campo il nonismo ci trova è fisico scegliere il campo grazie Carmine questo questo dopo la scelta per il campo alla palla ci passiamo a seguire l'interno inizio primo tempo tra falliti contro i Red Devils risultato sullo 0-0 partita incominciata da pochissimi secondi andremo ora a seguire il resto del primo tempo dopo la gatta a seguire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inizio secondo tempo tra falliti Red Davis, risultato sul 2-1 a favore dei falliti che riescono ad andare in vantaggio, attenzione, grande occasione per i falliti ancora. Comunque ricordiamo il gol di vantaggio segnato pochi secondi fa da Pellegrini ad inizio secondo tempo. Andiamo ora a seguire il resto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.